Ciao ragazzi, guardate in che bel posto vi porto oggi, avevo bisogno di relax e allora sono venuta in questo spa, non troppo distante da casa, è una delle spa con cui collaboriamo ed è una spa, se vogliamo, anche un po' alternativa perché è immersa nel verde e in piena campagna, dall'altro scendo poi vi faccio vedere, si vede anche in un viso, è un spa che si chiama Frozen, quindi col freddo ci sta, ma soprattutto è all'interno di un green village, quindi un villaggio tutto ecologico, green, dove si può soggiornare in alcune casette che poi vi faccio vedere dopo, con un bel laghetto e dove poter anche affittare delle biciclette, fare escursioni, avere qui vicino un campo da colpo, paddle, si può fare nel lago di fronte, dove ci sono anche delle casette galleggianti, si può fare il pedalò, oppure canora, oppure pescare, insomma si può fare tutto per una estate, primavera, ma qui è bello soprattutto venire in inverno, ma non solo, come sapete, a riposarsi e rilassarsi. Questa è la famosa yurta, che noi abbiamo yurta, in realtà qui è una polla riscaldata, dove ho la possibilità di vedere fuori, ma ricevere anche dei trattamenti e forseggiare, perché no, anche un po' di tigana, tè o acqua, insomma con il limone, con la mente riscopante. Vi faccio fare un breve giretto, bella la particolarità, però anche per tutti i nostri che abbiamo fuori, che sono legna, sono scaldate con la legna, non sollevano stata, perché la filosofia è stare nel verde, ma in silenzio, poi sarà fatto un attimo, niente poi vi chiederebbe il fatto. Ma è di tutto perché, dopo Sanremo, ho bisogno di rilassarmi, ma soprattutto per ricordarvi il nostro appuntamento di venerdì mattina, come sempre alle nove. Vabbè, magari potessi rilassarmi, togliermi il cappotto e fare anche un po' di sauna, un po' di bio-tauna, un po' di campanetti legane, in realtà abbiamo degli operatori che lavorano qui e quindi sono venuta a controllare che forse tutto a posto. Ma, vero è che ci vediamo venerdì mattina alle nove. E mando un bacio, grande, grande, qui di sera poi la mattigata, perché c'è anche le bracciare lì al centro acceso, dove si degustano anche aperitivi. Insomma, dovete proprio venire. Green Village alla Sirenetta a Sanziano. Ciao, a venerdì, vi aspetto puntuali. Ciao.